La politica con il sindaco della città di Trani, Amedeo Bottaro, che afferma siamo penalizzati sulle scuole, è evidente la disparità di trattamento nei nostri confronti. Il servizio di Marilena Pastore. Sindaco Bottaro, perché il voto contrario di Trani al piano triennale degli interventi della provincia sulle scuole? Sì, chiaramente un voto contrario innanzitutto all'intero bilancio di previsione della BAT 2015, perché chiaramente tra gli allegati, diciamo, tra i documenti fondamentali del bilancio c'è appunto la programmazione triennale 2015-2016-2017, che per una provincia fondamentalmente si incentra sull'edilizia scolastica. Bene, un piano che nel triennio prevede interventi per edilizia scolastica a città di Trani assolutamente irrisori, sia paragonati a quelle che sono le esigenze della città, sia paragonati a quelle che sono poi le risorse distribuite per le altre città della BAT. Do dei dati indicativi per farvi comprendere la sperequazione. Per la città di Andrea nel triennio è previsto un stanziamento di circa 10 milioni, per la città di Barletta 9 milioni, per la città di Biceglie 5 milioni, per la città di Canossa di Puglia 3 milioni e mezzo, per la città di Trani 2 milioni. Emblematico, l'ho preso come esempio, non semplicemente perché è stato il luogo dove ho studiato per tanti anni, ma perché è un po' anche un simbolo della città, il liceo classico De Santis, una struttura fascista, dell'epoca fascista. Bene, per questa struttura non è stato il piano triennale, non prevede neanche un euro per la manutenzione straordinaria di quell'edificio. Prevede 200 mila euro solo per la palestra, che peraltro è un corpo a sé stante. È evidente che una sperequazione, soprattutto una programmazione che non tiene conto di quelle che sono le reali esigenze del territorio, non poteva certamente essere approvata. Quindi Città Corone è un voto politico? Assolutamente no, come ha avuto modo di dire la Presidente della provincia, avrei espresso il voto favorevole addirittura se chiaramente avesse previsto un intervento consoni a quelle che dovevano essere praticamente le esigenze della città e anche il ruolo che la città ha all'interno della BAT. Evidentemente così non è stato e quindi chiaramente il mio voto è stato un voto contrario, che assolutamente non è certamente un voto contrario né alla figura del Presidente della provincia, ci tengo a chiarire l'assolutamente no. Tantomeno un voto politico. Io rappresento una città, faccio il Sindaco in questo momento, rappresento le istanze e le esigenze di una città. È quindi il voto contrario di un Sindaco. Sindaco, la risposta del Presidente qual è stata? La risposta del Presidente è stata fatta praticamente leva sul fatto che a Trani fosse stato destinato già in porti per la Traniandria, che il tutto faceva parte di una programmazione più vecchia, ma tant'è che ho avuto modo comunque di dirgli che infatti non ritengo lui responsabile di quel bilancio, ritengo responsabile di tutti i nuovi comuni che probabilmente nella vecchia programmazione hanno ripartito le risorse non assolutamente tenendo conto delle esigenze di Trani.